Buonasera, grazie di essere con noi questa sera a vedere Frances Ferguson, film che presentiamo nella sezione Festa Mobile. Sono molto contento di avere la possibilità di presentare questo film perché è un film del quale ci siamo tutti quanti, noi del comitato di selezione insieme al direttore Emanuele Martini, innamorati a prima vista non appena abbiamo avuto modo di vederlo. È un film che parte da uno spunto molto semplice, forse anche in qualche modo, se vogliamo, comune o comunque che abbiamo già visto e però poi lo porta lungo territori narrativi completamente diversi a quelli ai quali siamo abituati. Perché? Perché fondamentalmente questo film inizia raccontando la storia di una giovane insegnante di liceo in una piccola cittadina del Nebraska che per noia fondamentalmente finisce al suo stente. E poi da qui appunto succedono tutta una serie di cose che sono in parte quelle che ci aspettiamo succedano in una situazione del genere ma anche molto diverse, soprattutto per quanto riguarda i toni. Perché questo è un film molto divertente, con un umorismo molto intelligente, molto tagliente e a volte anche molto amaro. Sostanzialmente è un film che racconta come anche un evento molto traumatico possa rappresentare un'occasione di svolta esistenziale in positivo. Sono molto contento di potervi presentare il regista e coautore del soggetto di questo film, Bob Bainton. Grazie. Mi dispiace di non parlare italiano. È una sensazione davvero... ti fa sentire piccolo, umile, essere qui presente e mostrare questo film. La sensibilità comica, diciamo, degli italiani è veramente ad altissimo livello e per me, in quanto filmmaker, è ben difficile essere all'altezza. E in particolare, se vogliamo parlare della figura che torreggia nel panorama del cinema italiano, Federico Fellini. E c'è questa storia, questo aneddoto, che gira che durante le riprese di otto e mezzo avesse fatto battere a macchina, ovviamente, questa frase, ricordate che questa è una commedia e questa frase era stata attaccata, diciamo, sotto l'obiettivo della macchina da presa. Naturalmente, questo è un film molto piccolo, assolutamente non pretenzioso e su nessun livello può aspirare, diciamo, a quei livelli, ai livelli del suo lavoro, delle sue opere. Spero che vi divertirete, però... Non c'è un Q&A dopo. Ok, goodbye. Arrivederci. Proprio perché, appunto, purtroppo non è previsto lo spazio di Q&A, io volevo chiedere due cose rapidissime a Bob prima di lasciarvi al film. La prima riguarda che cosa ha significato girare una commedia su dei temi di questo tipo negli Stati Uniti di oggi, che, come sappiamo, perlomeno come viene percepito, insomma, vivono un'ondata di moralismo piuttosto importante. Well, again, it's nice to show the film here because I think we get to enjoy the film more than we would. It's a little bit uncomfortable in the United States because we can't really laugh as much, but I would laugh at this as much as I would laugh with it. You know, it's like our culture, we're struggling a little bit right now. Diciamo che la nostra cultura sta attraversando un momento un po' difficile, abbiamo delle problematiche, nel senso che in ogni caso è piuttosto un'esperienza piuttosto scomoda, diciamo, non ti senti a tuo agio negli Stati Uniti a vedere un film del genere perché in realtà non puoi godere anche del piacere e del divertimento perché non puoi ridere quanto in realtà dovresti o ti verrebbe da ridere, io vedendoli in Europa mi lascerei veramente andare considerando appunto gli argomenti. Diciamo che la nostra cultura è un po' problematica attualmente. L'altra cosa di cui volevo far parlare a Bob prima del film è della sua protagonista, che è uno dei motivi insieme all'intelligenza del film e al modo appunto in cui racconta la sua storia. Si chiama Kelly Willis, è una giovane attrice americana che abbiamo trovato assolutamente sensazionale, tra l'altro è accreditata anche come coautrice del soggetto, quindi volevo sapere come è andato il lavoro insieme sul set e così. Diciamo che la storia l'abbiamo costruita proprio per Kelly, fatta a sua misura per il suo umorismo, per la sua sensibilità e ho finito di parlare. E allora grazie Bob Bainton, grazie a voi per essere qui con noi, buona prosecuzione di Tornino Film Festival. Grazie a tutti.